Permettemi di fare i ringraziamenti, innanzitutto a Padresidoro è la comunità dei frati Cappuccini che veramente ci hanno accorto proprio sui loro figli in questa nostra vita a casa. Come sapete, come ha accennato già Padresidoro, è che è notata in questa chiesetta sulle Padre tanti secoli fa, poi nel 1512 ci siamo trasferiti nella chiesa di Santa Maria e oggi, dopo 500 e qualche anno, siamo ritornati in questa che fu la nostra prima casa. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.